raccontiamo il territorio insieme a te su youtube ogni giorno ogni settimana insieme raccontiamo il territorio le tue esperienze i tuoi luoghi simpatici i luoghi più belli dell'ambiente in cui vivi o più curiosi raccontiamo il territorio con franco e pablo 3 giorni passano gino rivieggio attore ed autore a raccontiamo il territorio ecco gino ci spieghi cosa unisce napoli al trentino e dal val di sole in particolare perché sono tanti punti in comune io dico è un matrimonio che riprende dopo un anno di sosta per motivi pandemici sono tanti in comune l'oasi la serenità del trentino la storia della nostra le tradizioni che ci sono in trentino che abbiamo anche noi la val di sole il sole nostro la madre del sole che ne so a finire al loro ferrari con la nostra famiglia di crei sono tanti punti in comune ma soprattutto quello che è importante è una grande integrazione tra i due popoli tra le due regioni e un grande rispetto i trentini rispettano moltissimo i napoletani i napoletani hanno un grande rispetto un grande affetto una grande simpatia per la gente della vita noi siamo un amore simentale noi siamo un amore simentale saluto gli amici di barinù e lui ci mi aiuto e rappresento la parte più bella della mia adolescenza quando andavo a Santa America a Santa Maria 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 e quando posso si torno sempre a Gnastro in Blue Moon a ballo al teatro della Providenza saluto gli amici di barinù grazie e stiamo per venire da qui grazie a tutti